Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui è il Bing che vi parla e oggi siamo su un nuovo video aggiornamento insieme a Jovix04 Esattamente signori, e perché oggi siamo qui a parlare di questo aggiornamento signori? Perché siamo invitati signori alla Notte Bianca il 1 giugno a Suzara in provincia di Mantua, signor Bing Esatto, perciò adesso questo qui è il sito Jovix, vi ho appena detto dove sarà Tutto mi raccomando, se andate in descrizione trovate il link di questo sito dove ci sono tutte le informazioni che adesso andremo a leggere Dunque, programmazione dell'evento Torna la Notte Bianca di Suzara con una edizione straordinaria dedicata al mondo comics, del cinema e in generale della televisione Quindi sarà una serata al mondo del cinema, ci sarà musica, ci saranno degli spettacoli, esibizionisti Esatto, diciamo un evento a tema televisione generale possiamo dire Esatto Quindi qui signori c'è tutta la programmazione E per farvi il culmine della questione Il... La serata si suddividerà in varie parti Qui ci sono tutte le parti Spettacoli animazioni dalle 19 in poi Quindi si parte dalle 19 fino alle 2 di notte Mi raccomando ragazzi Adesso vi leggiamo chi c'è Vi già potete entrare a vedere Alle 20 e 30 Cartoni morti con Andrea Lorenzo Dalle 22 Liquid in Town Che sarebbe Liquid sarebbero una band E ci sarà il DJ ragazzi con la musica A piazza Garibaldi Un mondo di fantasia Che è questo che ci interessa a noi Dalle 19 in poi Aria Bambini Ci sarà quindi Aria Bambini con gonfiabili E Trucca Bimbi Più Bolle Giganti con Silvia Rolli Ok quindi ci saranno i cosplayer che faranno questo lavoro Dalle 21 in poi Le stelle della danza Con i DJ E tutti quelli che poi danzeranno insieme alle scuole Ok quindi le scuole verranno Danza classica Hip Hop Tutte queste scuole qui Dalle 23 Voci del Cinema E cura dell'Accademia Quattro accordi di Mantua Che dovremo vedere dopo nella presentazione E da mezzanotte in poi Sessi nel fulmine Proprio Qui signori Da mezzanotte in poi Bordello Da cartoni morti Capite bene che io Da piccolo Lo guardavo YouTube per passare il tempo Ok lo guardavo Che ho qualche figata Cartoni morti È bellissimo Lo vorrei incontrare E sul palco Adesso saremo in colla Cioè Capite il salto che Dei tempi Io sono emozionatissimo A parlarvi di questo Stessa cosa per Jovix Orca vacca Io più di lui Figuratevi E inoltre ragazzi Ci sarà il DJ Con la musica Faremo noi L'entrata particolare Che adesso non stiamo più a dirvi Perché È una sorpresa Insomma Esatto E Oltre al DJ Ci saranno balli Ci sarà gente Che si Si ammazzerà Di balli Di musica Chi più ne ha Più ne metta Ecco signori Le serate non finiscono qui Però Se siete interessati Guardate il programma Sotto in descrizione Che vi lascerà il bing E che vi lascerò anche io Sotto in descrizione Noi in primis Vediamo il DJ Rude Gai Che è un DJ Internazionale italiano Famosissimo ragazzi Se non lo conoscete E dai Gattoni morti Andrea Lorenzon Ok Potete vedere qua Adesso è partito il video Scusatemi Andrea Lorenzon Insieme Alla Marvel Che in realtà Sono dei sosia Letteralmente Esatto Sono dei sosia Degli attori Ma noi ce li facciamo Andare bene I bambini piacciono I sosia anche Di Harry Potter Hermione Ron Elena Fave Che è la cantante Abbiamo anche Rubeus Hagrid Che non è proprio Hagrid Però è un film Della Madonna Basta guardarlo Abbiamo le cosplayer La macchina del futuro Ci sarà Quindi questo Esatto Questa non me l'aspettavo Neanche io Che c'era la macchina Di ritorno al futuro Eh signori Esatto Non me l'aspettavo Non ce l'aspettavamo Ma ce l'abbiamo E non ci sarà solo questa Ma ce ne saranno altre Ferrari Insomma Esatto Proprio un raduno Esatto Raduno anche di macchine Molto figo Per chi è interessato Sapete già dove Dove stare a A mezzanotte Ma già dalle sette Ma già dalle sette Questi saranno Già dalle sette Esatto Già saranno tutti lì A venire Ci saranno Gli agenti 007 La band Di Overboard Qui I vari fumettisti E al centro Dei fumettisti Signori I due youtuber Della serata Anzi Vabbè sì I tre youtuber Sarebbero Cartoni morti Jovix04 E Bing Chiaramente Non ci saremo Solo noi di youtuber Ma ne chiameranno Altri che adesso Non hanno messo Perché Stanno ancora Chiamando Però Certi non vogliono Mettere le foto Altri invece sì Un po' un casino Quindi Certi Li vedrete qui Altri li vedrete Direttamente lì A suzzaro Ok Signori Noi Vi ringraziamo per la visione E ci vediamo All'un prossimo aggiornamento Ciao Ciao ragazzi Bella